Il treno regionale 17-01-0, il treno di Tavia, segnore 12 e 09, proveniente da Ronico, è in arrivo al binario 14. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Attenzione, allo stesso ai treni ad alta velocità, raccomandiamo di presentarsi ai binari con un attivo rispetto all'orario di partenza per consentire il controllo della temperatura. Attenzione, allo stesso ai treni ad alta velocità, raccomandiamo di presentarsi ai binari con un attivo rispetto all'orario di partenza. Attenzione, allo stesso ai treni ad alta velocità, raccomandiamo di presentarsi ai binari con un attivo rispetto all'orario di partenza. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti